Un corso in parte teorico ma molto pratico, rivolto ovviamente agli insegnanti perché possano introdurre alcuni elementi nell'ordinarietà della loro gestione della lezione tipica, portare alcune piccole innovazioni. Le prime innovazioni è avere chiaro di come possono essere delle leve fondamentali, la parola, cioè per cui la comunicazione nel gruppo classe, la parte emotiva che vivono e soffrono i ragazzi e la parte anche corporea. Non avremo dei metodi eclatanti, io li chiamo del circo orfei, ma delle piccole misure che possono essere introdotte davvero nell'ordinarietà di ogni lezione. Il corso è strutturato in tre parti, in appunto cosa attiva uno studente e una classe e sono tre i fattori che studieremo insieme che sono la parola, l'emozione e il corpo. Poi ci sarà una seconda step delle tecniche pratiche operative e un terzo il taccuino dell'insegnante, cioè dieci passaggi, dieci scene semplici per capire cos'è una dinamica di classe e come poterla facilitare.